Ecco Lele Calcio di rigore è stato spinto, trattenuto Lele, Lele Lele è stato almeno a parigiare Si esatto, adesso è stato Sul dischetto Lele Lele Sul dischetto Il numero 7, Gian Leonardo Emanuele Detto Lele Calma Lele, freddezza Lele, 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 traverso interna di Lele Pareggio 3 a 3 Doppietta di Lele Quattro dietro Pareggio 3 a 3 E Antò, Antò, a centro campo Lele In 7 minuti abbiamo preso due gol da Polli Si, bisogna dire da Polli, non si può regalare Certi gol all'avversario Adesso ci troviamo sul pareggio 3 a 3 3 a 3